maronna mi voglio vedere i bambini per il testo del fuoco robino esce su qualcosa di pietro russa stamattina 1 kg di frittura non è? ma non vieni qua non vieni qua qua voi merluzzi vivi 2 euro al chilo stamattina offerte pazze 1 kg di merluzzi 2 euro 1 kg di treggio 2 euro misto 2 kg 3 euro 4 kg 5 euro e 20 kg non voglio sapere stamattina vieni qua 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 guarda che ho fatto stamattina stamattina anche i prezzi proprio imbattibili stamattina hai fatto una banca mondiale vieni qua per notte 2 euro e 50 kg vieni qua per notte 2 euro e 50 kg 6 kg di ostriche 6 kg 10 euro 6 kg di ostriche 10 euro ostriche 1 euro e 30 kg gamberi rosa giganti 3 euro e 9 euro prezzi pazzi stamattina ti ho corretto sono capito fino alle 13 e 30 tengo pesce per tutta la campagna misto a 1 euro al chilo misto nero 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 fai un po' con la pezzi un po' con i luoghi un po' con i tuttori un po' con i biglietti non so vieni qua ma è lusso 1 kg di euro 2 kg 3 euro 4 kg 5 euro a nero è vinto 10.000 senza nero è vinto tutto viva solo viva non è viva la coppa è morta sotto tutto viva non è viva tutto viva 19 e 99 uno è il cavo lì ci è gigante stamattina ti ho parlato di fiori guarda lì ci ho parlato di 99 tocca lì ci ho parlato di gigante guarda che ti è non puoi pensare che lì ci ha la tuffa di ricerca guarda qua stasca stamattina ti ha corrito tutto qua sono uscito fuori il cacao non sono buono i piccii ma senza nero ti ho chiesto di scompri scompri i vivi 2 euro e 99 scompri tu scompri 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 scompririamo ora ti spieghi 5 euro e 99 voglio tonni vivi tonnetti allatterati 3 euro e 99 solo per oggi per noi c'è 2 euro e 50 voglio 2 euro e 50 2 euro e 50 paranza grande ripeto paranza grande di prima 3 euro e 1 kg vado a te vado a te vado a te no no ma che hai tutto fai da te mamma mette la stessa cosa vado a te vivi 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 ho curato 3 euro e 99 oggi oggi io faccio a sciampazzire faccio a scipare porco rossi d'urice vedi vado a te vado a te vado a te 6 euro vado a te vado a te 6 euro 6 calamari freschi dai vado a te fammi vado a te vado a te calamari freschi vado a te guarda vado a te 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 sono freschi solo freschi calamari vivi 6 e 99 qui guarda non sto buona cagà 6 e 99 qui ti ha corrito qua ti ha amato i pompieri qui son ti ha amato i pompieri non sto buono non sto buono non sto buono 6 e 99 non sto buono qui ti ha amato i pompieri non è una vendita, è una svendita 13 euro di polpia come senti? diamo le poche pompe diamo le poche pompe faccio la coglia viva 8 euro 8 euro di grammi calamari vivi 16 euro di grammi 10 euro di polpia 500 euro di un chilo 30 euro al chilo 12 euro di robinù 12 euro di robinù ripeti mignone guardate oggi non so non prendiamo il luce di 2 euro ancora scambi vince mamma mia mi compri il giocattolo si viene da robinù ci sono 2 euro 7 euro di robinù 7 euro di robinù polpia locale ancora più grande guardi seppia locale prendi gli occhi prendi gli occhi ripeto le tucce pulpe rosse 4 euro ora ti spiego le mani voglio fatte una canzone rungo microfono canta a me canta a me voglio spiego le mani solo vive 9 viva coppa è morta sotto capisci a me 19 e 99 tutto viva aragoste 38 euro a chi rispondimi 38 aragoste rispondi pesce e castagni 10 euro a chi vado a castagni 10 euro a chi fatti una parola polipetti vivi peracini guarda il ca poche cofi poche cofi rispondi peppe guarda la mia feta è più grande rispondi peppe ogni spaghetto un polipetto ogni spaghetto un polipetto si va bene per il tv gamberoni rossi gamberoni rossi freschi 30 scoglie 12 euro ma vivo però gamberi 25 ma stacoglie ancora vivo mamma mia che te ancora scambi vivo ripeti ripeti scambi ancora vivi scambi ancora vivi peppe ricciole locale ora di mare molto locale pezzogna pezzogna ma ragazzi prima non avevi mangiato un gamberino nascosto come era buono mamma mia vieni con me vieni con me vieni con me a casa vi con me vi